Decolla da oltre 2000 metri e precipita in parapendio nei boschi di Canazzei, illeso il pilota. A Ton invece un'auto esce di strada e finisce a ruota all'aria, qualche contusione per la 19enne alla guida. Tiziano Mellarini, da assessore provinciale allo sport, si candida alla presidenza della Fisi regionale. Al momento è l'unico candidato alla presidenza del comitato sportivo più importante del territorio. Trovato un feto tra le griglie di un depuratore a Termeno, la scoperta degli operatori dell'Eco Center, l'azienda che gestisce la struttura che serve otto comuni della zona, indaga il NAS di Trento. Aquarius, un presidio per dire a Lega e 5 Stelle di aprire i porti. La proposta del gruppo Non Uno di Meno ha raccolto molte adesioni. Scendiamo in piazza per riconoscere autodeterminazione, desideri e coraggio. Scivolano per 50 metri in un canalone a 2000 metri di quota. In azione il soccorso alpino e l'Aiut Alpin per recuperare tre alpinisti berlinesi sulle Dolomiti, recuperati in lesi e trasferiti al ripuso Roda Devaelli. Pratiche di successione? Contabilità per professionisti? Contabilità per enti non commerciali? Contratti di affitto? Rapporti di lavoro domestico? La vita è già complicata. Falla più facile con CAF Acli. CAF Acli ti dà più che una mano. www.acliservizi.it 199-199-730